amiche e amici blucerchiati bentornati abbiamo perso 1 a 0 al mapei stadium una sconfitta che alla fine ci sta meritata la vittoria del sassuolo abbiamo visto questa sfida tra i due modi di intendere il calcio forse all'interno della serie a più distanti più opposti più possibili che però hanno prodotto una partita molto equilibrata soprattutto nel primo tempo come ampiamente annunciato più possesso palla più passaggi più predominio territoriale da parte del sassuolo però nei primi 45 minuti sostanzialmente parità oltre che nel punteggio anche a livello di pericolosità e occasioni create anzi forse qualcosina di più la samp di ranieri partita con questo 4 3 1 2 inedito nel senso che anzi mi sa inedito in assoluto visto che gli interpreti in avanti erano Keita e Gabbiadini non c'era Quagliarella neanche in panchina c'era Damskard credo in questo caso anche per l'unica volta per la prima volta come trequartista dietro le due punte e non si è trovato benissimo il danese dopodiché nel secondo tempo cambia De Zerbi mette un attaccante in più un esterno come Bogat toglie Marlon risistema la sua squadra con il 4 2 3 1 classico e lì cambia marcia al sassuolo non usciamo più ci schiacciamo prendiamo il gol non riusciamo a pareggiarlo anche se qualche occasione la creiamo e qualche rimpianto ce lo portiamo a casa dal Mappei. Finisce 1 a 0 come è andata con i nostri? Allora Audero 6 e mezzo inizia la partita con una bella parata stilisticamente impeccabile anche tecnicamente perfetta sulla conclusione di Berardi poi blocca quelle che arrivano in zona sua anche una bella uscita nel secondo tempo ho provato a rivedere il gol per capire se poteva avere modo di fare qualcos'altro sul pallone che poi Berardi rovescia in rete dopo la deviazione di Collei ma credo di no. Audero si stava spostando stava facendo il passo alla sua sinistra per andare verso la direzione del cross di Locatelli anzi del colpo di testa di Berardi poi respinto da Collei non ha avuto il tempo materiale di pensare all'uscita sul pallone che si era alzato dopo la testata di Collei. Quindi 6 e mezzo per Audero 6 e mezzo anche per Berezinski che fa una bella partita solida riesce a reggere l'urto anche se ovviamente fa fatica contro Boga nel secondo tempo Boga però gli va via in modo secco una volta sola direi che contro uno dei migliori dribblatori forse di tutta la Serie A è un buon risultato per il polacco che è anche discreto in proiezione offensiva fa una bella sgroppata sull'1 a 0 nel secondo tempo mettendo una palla all'indietro che bravo Rogerio a mettere in calcio d'angolo ha fatto molto bella figura Yoshida al centro della difesa 6 e mezzo ha respinto tutto quello che c'era da respingere nel primo tempo fuori dall'area nel secondo tempo sugli attacchi continui del Sassuolo e soprattutto di Berardi qualche difficoltà in più per Collei che comunque guadagna la sufficienza secondo me 6 è anche pericoloso nel primo tempo con il colpo di testa soffre un pochino quando lo portano fuori dal cuore dell'area di rigore ma comunque regge così come regge anche difensivamente Tommy Augello che ha avuto un'evoluzione in questa stagione per lui estenuante ha giocato sempre tutte le partite tranne quella in cui era squalificato contro il Bologna e abbiamo visto questa evoluzione soprattutto in chiave difensiva se nel girone d'andata l'abbiamo spesso notato in sofferenza quando la Sampdoria e ovviamente capita in grandi momenti delle partite della squadra di Ranieri deve difendersi nel girone di ritorno è molto più a suo agio anche quando appunto lo puntano deve fare diagonali le coperture molto bene 6 oggi Augello perché invece è un po' mancato nella fase di spinta che invece è il suo pezzo forte mi è piaciuto molto Antonio Candreva nel primo tempo coinvolto molto in ritmo nella partita faceva sostanzialmente il regista come sottolineato da e visto che nelle scorse pagelle ho sottolineato la telecronaca ottima di Riccardo Mancini che è uno dei migliori fatemi dire che sua maestà Stefano Borghi è sempre un piacere quando commenta in generale quando commenta la Sampdoria ancora di più perché veramente chapeau per il telecronista di Dazò il migliore secondo me in assoluto di tutta la categoria detto questo Candreva è calato nel secondo tempo come tutta la squadra perché non riuscivamo più a giocare il pallone quando riuscivamo invece a recuperarlo e a respingere gli attacchi del Sassuolo che invece nel secondo tempo ha preso continuità che andrebbe un po' sparito è riemerso nella parte finale quando abbiamo tentato di pareggiare mettendo qualche pallone dentro l'aria con il suo piede educato ma non è riuscito a far male un po' sotto tono Torsby e Yankto io darei 5 e mezzo a entrambi Yankto è vero che è stato il più pericoloso con il palo nel primo tempo però anche difensivamente si è fatto saltare un paio di volte e se manca la sua fase difensiva insomma non va bene è anche vero che è fondamentale lui per riempire l'area quando riusciamo a crossare dalle fasce quindi Torsby 5 e mezzo Yankto 5 e mezzo dicevamo della posizione di Michael Damsgaard trequartista dietro le due punte posizione che ha tenuto nel primo tempo poi nel secondo siamo ripassati a 4 e lui con la linea laterale vicino rende un po' di più nel primo tempo ha faticato a trovare la posizione e la giocata corretta anche sbagliato un paio di scelte quando la Sampdoria era riuscita a saltare le linee di pressione del Sassuolo ad arrivare in area dalle parti di consigli l'attacco Gabbiadini 5 e mezzo perché ha toccato pochi palloni se non ho visto male la statistica 15 nel primo tempo ha lavorato bene quello che poi si è trasformato nel palo di Yankto ma forse non solo per colpa sua perché la Sampdoria ha cercato più Keita per risalire il campo è stato poco coinvolto e poco pericoloso Keita invece mi è piaciuto un sacco forse il migliore della Sampdoria nell'andamento della partita insieme a Candreva ma Keita è stato più continuo ha ingaggiato e probabilmente vinto alla fine questo duello con Vlad Kiriches non facendosi praticamente mai anticipare lavorando bene dei palloni forse l'unica pecca nell'azione ormai strafamosa del palo di Yankto e l'assist suo anche se in realtà penso volesse tirare in porta e da lì forse uno come Keita poteva fare meglio mi è piaciuto soprattutto perché l'ho sentito molto presente vivo con personalità chiamare le marcature era lui che dirigeva le operazioni di pressione quando il Sassuolo per fasi eterne gestiva il pallone nella nostra metà campo quindi molto bene Keita anche a lanciare un segnale visto che si sta discutendo e la società, credo, stia valutando in queste fasi la sua possibile riconferma ma questo è un bel segnale che se non altro il ragazzo si sente coinvolto nel progetto questo per quanto riguarda i titolari sono subentrati Aschilzen, Leri e Nino Lagumina Aschilzen a me viene anche cioè proprio non è pronto non l'avete visto non serve che ve lo dica io mi ha anche sfiorato il pensiero si tratta di un 2001 io lo farei giocare prima non credo si possa però non lo vedo ancora un giocatore pronto per la prima squadra proprio non ha i tempi oltre a essere timido e per carità ci può stare ma gli serve un tempo di più per pensare e in queste partite contro squadre di gente affamata che ti salta addosso non c'è tempo per pensare quindi non bene forse addirittura il problema opposto Leri che invece è super frenetico questo abbiamo imparato conoscendolo insomma da quando è arrivato qui comunque 5 e mezzo per entrambi non combinano granché anzi e invece bene Nino Lagumina che è entrato nella fase in cui la Sampdoria provava a pareggiare cercandolo con dei palloni improbabili però lui è stato molto bravo ha apprezzato tantissimo la sponda che ha armato l'inserimento di Keita lì è stato bravo Chiriche se non sbaglio ad allontanare o forse Rogerio in diagonale insomma comunque Sassuolo l'ha chiusa ma Lagumina appoggiandosi sul suo difensore cadendo è riuscito di prima a fare questa sponda per Keita molto molto bella e stava anche calciando in porta nell'occasione poi era spinta da Ferrari su una sponda di Keita che anche lì era andato in cielo per colpire di testa non credo fosse rigore dei replay che ho visto la mano mi sembrava in una posizione congrua e abbastanza aderente al corpo però non ho visto i replay ma mi sembra che la decisione sia stata quella corretta e basta direi che li ho detti tutti quindi io vi dico buona prestazione il gol è arrivato mentre stava maturando quindi insomma giusto perdere non penso si potesse fare molto di più probabilmente magari credendoci un po' di più nel primo tempo avremmo potuto sbloccarla andare in vantaggio noi ma non mi sembra di aver visto nulla di scandaloso è una prestazione della Sampdoria di Ranieri a cui do 6 al mister in linea con quelle delle ultime partite oggi aveva anche meno frecce al suo arco per cambiare la partita durante ecco forse l'unica pecca e l'ha detto anche il buon Simone Tiribocchi al commento tecnico dietro le due punte almeno a gara in corso avremmo potuto vedere Valerio Verre che lì probabilmente si troverebbe meglio che non da mezzala o da sottopunta dietro a un attaccante solo ma tant'è abbiamo perso però insomma non avevo particolari belleità anche in caso di vittoria di andare a risalire ulteriori posizioni in classifica ci mancano credo 5 partite per concludere bene puntando ai 52 punti questo campionato grazie a tutti commenti qui sotto seguiteci sulle nostre pagine questa, quella su Instagram vivaio meme of Sampdoria e Twitch Twitch soprattutto Twitch grazie a Piro che ha fatto l'editing facendo quelle robe dei montaggi con i programmi difficili e ci sentiamo per le prossime partite a Piro che ha fatto l'editing